eh ti dà naso? ti schiaccia naso? porta dentro no ed è in bocca è rimasto no deve mandare il zoppato no ma che hai fatto hai fatto? ma che cazzo hai fatto? ritira tutto tu che basta devi accendere un'altra non è così no no non c'è un altro per non c'è il pazzo ma io qua no no ti dico come si fuma mi sto vedendo un po' di testa ma porco di un cane ma scusa ehi sei capace a guardare con me? no devi mandare giù come mandare giù sei capace? eh sì vai pronto vai via un'altra ancora un'altra forte forte ma porco di un cane no basta 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 chiudimi il naso fra noi se no non aspira non ho tirato non ho tirato non ho tirato no devi fare forse 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 oh non puoi collegare, Uncle ne abbazze eh? 9,9,9 lui lui pubblica no lo pubblica lui no non lo pubblica lui luca gira 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 la testa per forza mi tienilo tu? eh? per testa o per strada? ciao non fate pinta in questa parte devi andare dove passiamo da qua dai domani domani